So io che frego l'ora Saaah, c'è lei qui Oh mio dio No, no No, forza, riparati No, chi mi è uscito? Uscite Ha disgraziato però, dai E lei niente dice Mi stanno mangiando Vuoi due etti di prosciutto? Due etti di chiappe? Andiamo a comprare colpi e controcolpi Perché qui a me servono Se no, ciao Fortunatamente dei soldi non ho da lamentarmi Oh salve a tutti ragazzi Siamo con un'altra puntata di Watch Dogs 2 Con voi Vincent Da molto tempo che non ci gioca Ma vabbè Se l'ho ritornato Anche perché a me piace come gioco Lei si levi Vesco che questa è casa mia Dopotutto è casa mia Si deve levare E basta con questo claxon Io posso fare quello che mi pare piace Vicino a casa mia, ne? Io entro Nessuno vede la mia password Che se no le smonto la testa Alleluia Tre ore per entrare Nece blalush Oh Stop A chi devo dare la precedenza? A chi? Al carrello? Anche il carrello deve dare la precedenza A sto punto Si deve fermare anche il carrello Ma poi se adesso non passa nessuno Perché dovrei fermarmi? Scusa Cioè addirittura qua non si può fare in versione di marcia Io posso fare quello che mi pare piace Che è tutta sta segnalazione? Ve siete bevuti il cervello? Beh no Non ve siete bevuti Bevuti il cervello Ma avete bevuto la birra E anche qui lo stop Ma che devo fare? Perché? Ah Bene Cioè io quindi dormo vicino a delle cose che potrebbero esplodere The final showdown The final count E' il mio caro pegalino Tanto ci vuole per salir Che c'è pure il fenicottero dietro Oh Faccio fuori a tutte e due E si litiga Non c'è E' entrata Ma sei notta colpita Oh ma che? Ma che succede? Ma sta laggando No sta laggando per forza Perché c'è una cosa ingresa Oh fammi Fammi entrare Non entro Il problema è questo Che Mamma mia Non ti preoccupi Signor Riders A quanto pare Dovrebbe essere Io sono un esperto in queste cose Partutto nel vedere cose strane Ecco No Non ci posso credere Eh signor Riders Sono nei guai Mi stanno mangiando Vuoi due etti di prosciutto? Due etti di chiappe? Ma si Tanto sono buono Ah cane Eh che cane Mi hanno fatto volare Ma sono gemelli Qua sono gemelli Inutile Se ne vanno tutte e due così Ma comunque non ho mai visto Tanti poliziotti Poi in un unico posto Cioè non è che uno dice Ma che succede Ma che succede Aia Oh Eh mi fa male Aia Cavolo Aiuto non ci vedo niente Senta Io lavoro da solo Oh è inutile Quello non la sman Quello c'ha mal di pancia Ma Ammina ragazzi Io direi che con questa puntata Possiamo finirla Qui Ma proprio qui Vabbè Io spero che questa puntata Mi sia piaciuta Questo è stato Questo non ha capitato niente Per questo è stato Per tutti un bel mi piace Commentate E iscrivetevi Se non è ancora fatto Ma intanto ci vediamo Con la prossima puntata C'ho dello sporco Dietro le chiappe Ammina per me Dicono di mettermi A terra Ma non credo Sia molto pulito Potete fare tutto Sto casino Ogni volta Uh che bello Un vasso Ma più resistente Deve essere E le piante Quanto sono resistenti Cos'è una barchetta Ah no È quello per i fazzoletti Ci avrà il raffreddore I giornaletti 2016 Eeeh Sono ben passati Sti giornaletti E così si frega la gente Mettendo i giornaletti Quelli già passati I manopesso Ma siete scemi Finiremo per bene La puntata Oh Dove andremo a finire Non lo so Ma no Sto a fare il video Uh Questo si che stile Che fai Voli Ah vedi quello Spero tu cada Ecco è caduto infatti Fatto male Venga qui Da dove si sale Oh Oh mi spiace Fatto male Ma sa che non era mia intenzione Farle del male Oh Attenzione Che vuole salire anche lì Eh no Non può Sali Oh mio dio Uh Da qua non mi prenderete mai Ve lo dico solo così Per informazione Aiuto Oh che fa Oh aiuto Mamma mia Oh ma che siamo al film di Charlie Chaplin Che scemo Chiami È normale che siano così scemi Mi domando se poi riuscirò a salire No Dove vai Che fa Che fa Sali Oh Oh mio dio Madonna cosa ho fatto Che fai Oh Equilibrio Attenzione Oh incredibile Mi so salvato per poco No 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 si è rotto Eh vabbè Sono i rischi del mestiere Perché non posso salire Eh Qua posso salire Dalla scala no Cioè tu fai sempre le cose complicate Eh sì Santa miseria Benedetta Aiuto Oh Come mi ha fatto male Incredibile Vado Violenta la signora Ciao 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.